In compagnia di Ghe Pechegno, però questa volta per parlare di un suo coinvolgimento come doppiatore. Ciao! Ciao, ciao! Come è stata questa esperienza nel doppiaggio per Stepa Polin? È stata più divertente di quello che pensavo. Inizialmente ero un po' timoroso perché era la prima volta che lo facevo, poi però ho avuto un sacco di aiuto dalle persone che erano qui con me, mi hanno messo a mio agio, mi hanno insegnato il modo e poi è andata tutto liscio. E come è nata, come ti è arrivata la proposta? Cioè sei rimasto un po' sorpreso lì per lì e hai detto Dio, no! No, nel senso che comunque nel mondo si usa questa cosa, che diciamo il talent venga coinvolto a doppiare spesso nei cartoni animati, ma anche no? Comunque ho accettato, a parte perché mi piacciono i film da sempre e poi perché il film comunque era un film che apparteneva comunque alla mia musica in un certo senso, è una saga molto famosa, molto apprezzata dai giovani, insomma c'erano vari aspetti per cui non potevo rifiutare. Ma tu la seguivi, l'avevi già visti gli altri? Io onestamente no, ma perché sono un po' fuori target, nel senso anagraficamente perché la danza non è il tuo. Però comunque mi piace il ballo, vederlo sicuramente, poi rispetto a tutte le discipline per carità, conoscevo chiaramente la saga di fama, chiaramente certo, mi è capitato anche di vedere degli episodi. Senti, c'è stato un momento particolare nella fase del doppiaggio che ti è rimasto impresso? Ma no, il personaggio è divertente, devo dire, è un po' spesso, quindi assomiglia anche un po' a me. Fortunatamente non ho dovuto recitare un Colossal, è un personaggio minore, carismatico ma un po' minore, quindi ce l'ho fatta in denne. Gifonio è un festival appunto dedicato ai ragazzi, io torno da lì, c'è una marea di energia pazzesca, il tema è Be Different. Un consiglio che ti senti di dare ai ragazzi che cercano di difendere e di far valere la loro diversità, tra virgolette, poi? Io conosco bene Gifonio, ci sono andato a suonare, sono molto contento di andarci, riguardo a questo non è che sono certo il miglior esempio per dare dei messaggi ai giovani, visto la musica che faccio che è un po' controversa, però consiglio a tutti di non farsi influenzare dalle cose negative, giudizi negativi che vengono da fuori. Io stesso sono nato con un occhio chiuso e di questa differenza ho fatto poi la mia forza, è diventato il mio segno di contraddistinzione, è diventato il mio nome d'arte e da una debolezza ho fatto una forza, quindi non perdetevi d'animo. Questa ragazza è un paradiso, tutte le robe brutte che ho fatto, me le hanno abbonato, non so come mi è uscito. Ha azzerato la questione ragazzi! Ha uscito dal cuore proprio, ma guarda veramente, grazie per aver fatto uscire il meglio di me. Adesso vedrete la versione con l'aureola. Senti invece, oltre che al Giffoni, questa settimana c'è un sacco di cose, uscirà il nuovo singolo Fragili, con una featuring, come Arisa, ci puoi dire qualcosa? Abbiamo una curiosità? Sì, è uno dei brani che mi piacciono di più, tra quelli che ho realizzato per l'album dei Dogo, anche della mia carriera in generale, perché è un pezzo molto potente. Quasi ipnotico. Abbiamo avuto la fortuna di mixare e lavorare il disco con Demo Castellon, che è uno dei migliori ingegneri del suono del mondo, che è il braccialetto di Timbaland, ha lavorato con Madonna, con Jay-Z, con tutti, quindi il suono è veramente international. Non è, molti possono pensare che sia un pezzo debole, tra virgolette, all'italiano, invece è un pezzo veramente forte e il fatto che ci sia Arisa crea un contrasto molto particolare, una voce bellissima, è un pezzo fantastico, tutti lo sentirete e direte wow. E poi all'attesa è per settembre il disco in uscita, un bel progetto, bello... Bello, bello tosto, ci sono dentro dei featuring molto interessanti e il suono veramente ha uno stadio superiore per essere in Italia, specialmente nell'hip hop italiano che molte volte è fatto un po' così in modo provinciale, invece questo è veramente... E tra l'altro anche dichiarazioni, se non sbaglio, venditti, ha detto che se lui e De Gregori avessero iniziato la loro carriera adesso, probabilmente avrebbero fatto rap e che il rap è il nuovo genere cantautoriale italiano. Sì, ho già sentito questa cosa, vabbè, non è un insulto, non sono proprio d'accordo al 100%, però è una bella cosa, comunque è un piacere che in un paese, diciamo che tende sempre ad essere arretrato come un'Italia piena di pregiudizi, in cui ancora adesso tutti noi non facciamo comunque fatica a ottenere alcune cose, delle figure istituzionali così importanti, spendono delle belle parole per noi, quindi figurati, tutto ben accetto e anzi grazie. Chissà, magari poi un duetto, un futureing. Ormai abbiamo fatto di tutto, quindi ci manca solo venditti, guarda. Grazie mille, ragazzi l'appuntamento è con Guè, ovviamente in Step Up All In, da venerdì il 25 ci sarà Fragili On Air, quindi ascoltiamolo, poi il disco, insomma, seguiamoli. Ce n'è di roba? Tantissima, grazie infinito, un saluto agli amici di Fan Week. Un saluto agli amici di Fan Week. Grazie mille, grazie mille.